Franco Muscida è un artista poliedrico che dopo aver formato, fondato la PFM, indubbiamente la band Progresso più importante in Italia. Il settembre che ho scritto io da un'ultività musicale ha un inciso strumentale che racconta senza bisogno di parole. Il musicista prima di essere un musicista è un ascoltatore. Io continuerò a lavorare tutti i giorni per raccontare che la musica è un territorio indivisivo che non divide ma che unisce.